Sono con Roberto Larson, direttore didattico di tecnologie della moda, nonché titolare della Fashion Service, che è un'azienda che offre servizi ad aziende che operano nel settore delle confezioni. Realizzate dei corsi dove fornite il maggior numero di nozioni attraverso video, testi utili a formare quelle che saranno le figure professionali che poi andranno a lavorare nel mondo della confezione, della modellistica e del design. Esatto, i nostri corsi sono prevalentemente online e sono tutti interattivi, ossia per tutte le nozioni che noi eroghiamo chiediamo anche delle esercitazioni. Queste esercitazioni vengono poi verificate dai nostri docenti e a queste viene attribuita proprio una valutazione, oltre che naturalmente la correzione del lavoro stesso. Realizzate quindi una vera e propria verifica? Esatto, ogni settimana per ogni lezione viene richiesto un lavoro da parte degli iscritti, dei nostri allievi e considerando che abbiamo allievi in tutto il mondo, per ogni lingua c'è un tutor in lingua madre, per cui tutte le nozioni, tutti i video sono doppiati nella lingua corrispondente. Abbiamo corsi in bulgaro, in rumeno, in serbo-croato, francese, spagnolo, inglese naturalmente e per ogni lingua c'è un tutor dedicato. Sono con Francesca IV, responsabile dei corsi di stile. Qual è il messaggio che vuoi sostanzialmente mandare a chi è appassionato di moda e vuole intraprendere questa carriera professionale? È importante far sapere a tutti quelli che sono interessati ai nostri corsi che non importa avere nozioni o aver precedentemente frequentato un'ipsia ad esempio, in quanto tutti i nostri alunni, seppur privi di basi, riescono poi con i nostri corsi a creare e perché no anche realizzare un proprio brand e delle proprie collezioni moda. Il vostro studio di consulenza si avvale di un'esperienza maturata nel campo, collaborando con nomi altisonanti del fashion system come French Connection in Inghilterra, Rocco Barocco, Donna Karan in America, ITR in Italia. Sì, lo studio ha radici antiche perché io ereditato questa attività, questo lavoro da mio padre, quindi sommando le esperienze siamo intorno ai 50 anni di attività e quindi abbiamo avuto modo di collaborare con i più importanti nomi della moda, sia italiana che estera e quindi forniamo servizi che variano dalla consulenza stilistica a quella modellistica, controllo qualità, gestione della produzione, anche perché ci avvaliamo di un tessuto produttivo locale molto valido. Abbiamo un'antica tradizione sartoriale e una grande esperienza proprio nella lavorazione, nella confezione di abiti da donna e da uomo. Programmi per il futuro? Ne abbiamo tanti, abbiamo anche molte collaborazioni aperte con le aziende che richiedono a loro volta collaborazioni con i nostri allievi, per cui non mi rimane altro che invitare tutti a guardare il nostro sito in modo da rimanere aggiornati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.